Questo è un kid di sopravvivenza per noi iscritti al Carroccio perché dopo il successo del Gandhi leghista in Polonia meno male che il pacifista non aveva la colomba quando è andato in Polonia a portare la colomba cacavantassero mi te prego però un po' di nuovo voglia di commentare Camilla ti mi fai una cartella a quelle figure da Moeca che ha fatto il pacifista di non rimbarca?